Una giornata importante, ci sono persone importanti che possono veramente portarci delle testimonianze importanti. Abbiamo bisogno di avere delle risposte, abbiamo bisogno di sapere realmente quello che si può mettere a terra. Quindi devo dire anche una grande partecipazione, quindi dimostra che è un convegno indovinato e tutti quanti siamo qua in attesa di capire quello che si può fare da qui al 2026. Tutti quanti parliamo di mobilità, parliamo di mobilità sostenibile, adesso bisogna veramente fare l'ultimo passo che è quello di far capire a tutti quanti quanto è importante la mobilità. Il turista chiede già di poter nascondere le macchine, di poter nascondere tutti i mezzi e di poter girare all'interno di qualunque località turistica a piedi oppure con dei mezzi sostenibili.